L'arte di instaurare una relazione con qualcuno consiste nel farlo sentire speciale. Tu sei speciale. Dovete sapere che noi investiamo molte energie nel cercare la persona giusta, quella con la quale condividere la nostra vita. E secondo il buonsenso la persona giusta, cioè l'anima gemella, è quella che condivide con noi i valori e gli obiettivi di vita. Ma per riconoscere la persona giusta dovremmo prima imparare a conoscere noi stessi, i nostri desideri più profondi. E prima di scegliere dovremmo sentirci noi la persona giusta, cioè dovremmo essere in armonia con noi stessi, accettandoci per quello che siamo. Allora comparirà l'anima gemella. Alcuni aspettano la persona giusta con la pretesa che questa possa migliorare la loro vita, andando a colmare un vuoto. Ma non è così che funziona una buona relazione. Se sai chi sei, automaticamente saprai cosa vuoi e saprai dove cercare. Anzi, la persona giusta ti troverà. Se vivi in pace con te stesso, in armonia con il tuo mondo interiore, non avrai difficoltà a stringere rapporti autentici e a coltivare relazioni significative. Al contrario, se hai dei conflitti irrisolti, se non vivi in armonia con il tuo mondo interno e ti trascini dei bisogni insoddisfatti. La ricerca della persona giusta sarà viziata da questi bisogni insoddisfatti e tenderai ad essere vittima del classico narcisista di turno, che rappresenterà il tentativo di aggiustare qualcosa che non va bene in te stesso. E presto arriverà una cocente delusione, perché in questo caso ogni componente della coppia trova nell'altro il rinforzo della falsa rappresentazione che ha di se stesso. E tutto diventa una farsa, cioè un autoinganno. Nel rapporto di coppia ciò che funziona non sono tanto i bisogni insoddisfatti di ognuno, quanto le potenzialità di ognuno che sono pronte a realizzarsi grazie al rapporto. Ecco perché occorre sapersi ascoltare, sapersi interrogare, e occorre dare all'altra persona un'idea chiara di chi siamo veramente, per capire fin dai primi istanti se c'è possibilità di una compatibilità. La persona giusta arriva quando sei giusto tu, quando tu sei in pace con te stesso, e quindi sei pronto ad accoglierla nella tua vita. La ragione per cui molti rapporti di coppia entrano in crisi è che ciascuno dei due tende a concentrarsi sulle proprie aspettative deluse, dimenticando di chiedersi che cosa può rendere felice l'altro. Ora, quando si cominciano a provare dei sentimenti negativi verso il proprio partner, viene naturale pensare di aver scelto la persona sbagliata. Le relazioni del resto non sono facili, le relazioni richiedono dei compromessi e soprattutto richiedono l'accettazione delle differenze. La chiave di una relazione felice è la capacità di accettare la diversità dell'altro. La chiave per avere una relazione migliore è trattare il partner con considerazione, anche se a nostro parere non se lo meriterebbe. Purtroppo succede che spesso siamo impegnati a rimuginare su quello che l'altro non ci dà e dimentichiamo di chiederci che cosa noi gli diamo. Invece quando ci impegniamo ad essere un partner migliore, l'altro sentendosi amato e accettato inizia spontaneamente a fare dei cambiamenti e diventa più accomodante e premuroso. Il rapporto tra esseri umani è come un'aria che si respira. Noi respiriamo senza accorgercene, ma sappiamo che l'aria è necessaria alla vita. E qual è lo scopo di una relazione? Una relazione tenta di rappresentare proprio la vita. I rapporti sono necessari perché noi non siamo sazi dei nostri soli pensieri. Ma oggi i rapporti sono in crisi perché la rivoluzione sessuale ha comportato una rivoluzione del rapporto tra i due sessi, con ripercussioni non sempre positive sulla coppia. La rivoluzione sessuale fa diventare il sex appeal l'aspetto più importante e la rivoluzione culturale degli ultimi decenni ha trasformato i sentimenti in oggetto di consumo. Oggi si promuove la soddisfazione anzitutto di se stessi. Oggi si cerca continuamente un'emozione forte in assenza della quale si dichiara che la relazione è finita. Poi con internet la scelta del partner diventa illimitata e per quanto siamo soddisfatti della persona che amiamo il mito della scelta infinita ci dirà che da qualche parte del mondo c'è una persona migliore che ci aspettano, forse a distanza di un solo clic col computer. Poi aggiungiamo che il cinema e la televisione ci presentano amori perfetti e creano aspettative che difficilmente riescono a realizzarsi fomentando un motivo di insoddisfazione per il proprio rapporto di coppia. Insomma non è semplice il discorso ma va detto che un punto fondamentale è che ogni volta che costruiamo una relazione con gli altri dobbiamo sapere che noi creiamo l'immagine dell'altra persona secondo il modo di essere. Perciò quando noi ci rapportiamo con qualcuno è come se ci relazionassimo anche con noi stessi. La relazione è una specie di strumento che ci permette di discernere quello che senza l'altro non avremmo visto in noi stessi. Perciò ogni nuova relazione che noi imbastiamo è come una nuova conversazione con noi stessi. Bene io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo un messaggio del tipo come funziona la consulenza specificando il vostro nome e cognome e i vostri orari preferiti. Inoltre potete visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video e mi trovate anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. Inoltre vi informo che ho pubblicato quattro libri che si possono trovare soltanto su amazon sia in formato ebook che in versione cartacea. In bocca al lupo a tutti! Grazie! Grazie! Grazie!